In questa tazza stiamo versando un alimento buono, sano, ricco, nutriente e tra i più completi che si possono trovare in natura, il latte. Alimento prezioso e delicato, per essere latte Parmalat ha bisogno di rispetto, cura e tante attenzioni. Solo così può essere latte Parmalat, un grande latte. Sono già arrivati tanti, tantissimi voti da tutta Italia per il grande referendum Squadra del Cuore IP e tu puoi far vincere la tua squadra. Fai rifornimento alle stazioni di servizio IP e vota, puoi vincere 300 milioni per la casa più bella che vuoi e tantissimi altri premi. Porta la squadra del cuore, squadra del cuore IP.